vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org solo qualche giorno fa ricordevano i 16 anni dalla strage di Nassiria quel drammatico giorno di novembre in cui ben 19 italiani appartenenti alle forze dell'ordine persero la vita e un attacco alla base maestrale un attentato alla base maestrale per quanti anni le nostre città sono state imbrattate con la scritta 100.000 Nassiria un tentativo di infangare di sputare su un episodio drammatico e di colpire ancora al cuore di chi quel giorno ha perso un figlio un padre un marito un fratello un messaggio carico d'odio firmato sempre nella stessa parte politica che tra le tante nel suo DNA anche l'avversione verso le forze dell'ordine però per qualche anno per un po di tempo quel messaggio è stato un po accantonato il che ha permesso anche di evitare che sulla memoria di quella tragedia si continuasse a parlare a sproposito però nei giorni scorsi quello stesso sentimento è stato lanciato a profusione da un sacerdote padre Alex Zanotelli un missionario noto pacifista italiano il quale a un'agenzia di stampa proprio nel giorno in cui ricorreva l'anniversario del drammatico infame attentato ha detto i militari vittime dell'assentato a Nassiria non andrebbero definiti martiri chi c'era racconta di un giorno d'inferno polvere fuoco e sangue è stato in qualche modo il nostro ground zero l'11 settembre italiano sicuramente l'11 settembre per le forze dell'ordine per i nostri militari è come se avessi perso i miei figli confesserà con un filo di voce più tardi il comandante generale dell'arma Guedo Bellini dopo anni però si continua a sputare sulla tragedia sull'onore sulla dignità sulla storia italiana e di quegli uomini che servivano il nostro paese e potremmo d'altronde metterci anche a discutere della libertà del sacerdote di dire quello che vuole del fatto che resta paradossale anche se fino a un certo punto che il pacifismo rispetto al disprezzo nei confronti di chi è morto per il proprio paese facendo il proprio dovere potremmo anche polemizzare con chi si trincera dietro la scusa che in realtà il prelato si stesse attenendo la definizione teologica e canonica di martire rispetto alla quale non risulta però abbia gli strumenti nell'autorità per sentenziali pure a cosa servirebbe tutto questo a cosa servirebbe imperagarsi nelle secche di un discorso in fin dei conti banale e retorico forse sarebbe più opportuno fare un passo indietro ritornare a quello che c'era dietro quell'attentato anche perché poi il sacerdote ha detto non possiamo più stare in un paese che abbiamo contribuito a distruggere però qui ci ha pensato direttamente il generale salvatore antonio polimeno a rispondere con una lettera aperta bellissima pubblicata sul giornale indirizzata direttamente al prelato e quindi dicevamo l'unica cosa che possiamo fare noi oggi qui per difendere la storia del nostro paese la memoria di quelle vittime innocenti è raccontare mandare alla memoria di qualcuno per esempio quello che c'era dietro quell'attentato terroristico infame e che emersi in maniera più evidente quando il reclutatore di uno dei terroristi camicazzi di nasiria venne arrestato in spagna qualche anno più tardi assieme a una ventina di appartenenti una cellula che in iraq lavorava in iraq e inviava i cosiddetti volontari per la guerra santa proprio lì e in castrallo fu l'identificazione da parte del reparto scientifico dei carabinieri del codice genetico del fratello dell'attentatore di nasiria belil belgajem di origini algerine tra gli arrestati in quel nucleo c'era anche mustafa serouk un imam personaggio di primo piano il radicalismo islamico in spagna e non venne escluso che fosse stato proprio lui a indottrinare il kamikaze di nasiria l'uomo che facendosi esplodere ha in qualche modo ha contribuito alla morte dei nostri soldati e in questo contesto che nasce l'attentato di nasiria è nel contesto del radicalismo islamico del terrorismo islamico e davvero non occorrono altre considerazioni risulta davvero inutile e avvilente dover stare lì a giustificare a sentenziare a replicare alle parole di chi continua a sputare sulla memoria dei nostri soldati l'ultima considerazione che ci preme fare è che quei 19 uomini non sono dei caduti ma sono delle vittime del terrorismo islamico i nostri soldati sono stati le vittime del terrorismo islamico ed erano lì per una pace da difendere dal terrore di Allah vuoi informarti informarti e orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org www.radionomalibera.org